Il momento che pensiamo alla striscia di vittoria stiamo pensando male, non dobbiamo guardare a questo, finisce una partita e c'è un'altra partita, indipendentemente da quello che succede sugli altri campi, ogni partita dobbiamo giocarla per vincere e dobbiamo migliorare, ne abbiamo tante cose da poter migliorare per diventare più soliti per quando arriveranno i play-off. E tutti possono migliorare, tutti possono fare quel passo avanti che ci servirà poi all'ultimo mese di campionato. È chiaro che adesso guardare all'ultimo mese di campionato è chiaro che ci deve arrivare anche con una buona posizione di classifica all'ultimo mese di campionato, per cui io credo che non bisogna fermarsi.